Cosa ti porta in Irlanda? Un matrimonio. Oh, congratulazioni. Oh, no, 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 nennio. Di una mia amica. Non posso credere che quei due stiano per sposarsi. Tu mi rendi migliore, Maggie. Siamo una squadra magnifica. Esatto. Ciao, mamma. Sarebbe tutto diverso se avessi seguito il tuo consiglio e... Sarebbe bene che iniziassi a farti valere. È tardi. Io desidero sposarmi con Paul Kennedy. Ma che... Paul! Emma! Hai visto Paul? Neanch'io lo vedo da un bel po'. Che ci faceva lì dentro? Cos'è successo? Non sono io che mi devo sposare. È lei. Esattamente. Tu, amica mia, sposerai Paul Kennedy. Sì! Ciao. Sei tu. Come hai ottenuto l'anello? Lei si è inginocchiata e mi ha fatto la proposta. Ho fatto io la proposta? Insomma, sì, certo, ma certo. Sì, ho fatto la proposta. Il mio avvetto stampa vuole che scatti qualche fotografia. Crede che questo possa aiutare a vendere la mia immagine? No, oltre che un matrimonio è un evento pubblicitario. Esattamente. Staremo insieme tutto il giorno domani. Lasceresti a casa il sarcasmo? Farò del mio meglio. Ehi, sei proprio bravo. Mi piacerebbe sposarmi qui. Allora fa. Non voglio fare la difficile. Dire ciò che pensi del tuo matrimonio non è un tuo diritto. E come te lo immaginavi? So che potrebbe suonare strano, ma non sono sicura che debba essere questa la mia vita. Se fosse così sei ancora in tempo per cambiarla. E come te lo immaginavi?